Ci accingiamo a fare quello che già abbiamo fatto in passato, essendo continuità stiamo facendo null'altro che proseguire il lavoro fatto fino ad oggi. Quindi come è stato per i beni confiscati dalla mafia, la patrimonio oggi preassegna le ex scuole alle associazioni che con i loro progetti daranno nuova vita a questi plessi. Quindi l'idea e l'intuizione di portare avanti con la società patrimonio, la valorizzazione del patrimonio, oggi con questo altro passo si concretizza. Quindi siamo qui proprio per ascoltare anche da parte dell'associazione quelli che sono i progetti relativi alle azioni che interverranno un po' nelle scuole oggetto dell'assegnazione, proprio per ridare corpo al tessuto territoriale. Quali sono le scuole? La città di Massa San Giorgio, Gesso, Massa San Giovanni, Spartaro, Odia, Santo Sab, Pianotore, Massa Santo Lucia, tutte plessi che non erano più in utilizzo e che piuttosto che stare chiusi e fermi ridaranno possibilità alla città, ai cittadini appunto di riprendersi in mano una porzione del territorio. Possiamo dire che è un primo segnale di vita la patrimonio SPA? Non è il primo segnale di vita, la patrimonio SPA ha fatto tanti segnali di vita che magari noi non cogliamo perché giustamente impegnati a fare tanto altro. Un altro segnale di vita, e vi do anche una notizia in anteprima, proprio passando dal principio del decentramento, è quello che abbiamo individuato una nuova sede per il sesto quartiere. Ho sempre detto che il decentramento passa soprattutto dalle strutture, le sedi del sesto quartiere che voi conoscete non erano sicuramente adeguate, a seguito di attività fatta proprio dal patrimonio con bando, ricerca e verifica dei prerequisiti abbiamo individuato una nuova sede. Quindi ci stiamo muovendo, come abbiamo sempre detto, soprattutto dal decentramento. Quindi l'esempio delle scuole, l'esempio del decentramento e tanto altro serve proprio a fare capire che la società patrimonio è indispensabile per far ripartire tutto il territorio.